IL BAD, BRO, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD Fallen One di nuovo in lobby, quello che ha grollato la lobby di prima Che merda sta roba, porco Dio Forse Tess non era meglio l'avento di Tess, cioè non lo so, ora che non ero fatto le naga, forse Si, in backfk il turno giusto, però, proviamo Si, overall le crypto hanno fatto un bel crollo, per ora negli NFT sto messo bene Io ti dico, ho incominciato a gennaio con 2TH, ero arrivato ad avere 8-9TH di valore Ora ho tra i 5-6, quindi comunque si, un po' un crollo c'è stato Però comunque guardo sempre il punto di partenza, iniziata 2, ovvio, una certa avevo 8-9TH di valore Ora ne ho 5-6, ma va bene, va bene, va bene Cioè è una roba, non è che voglio diventare, cioè non è che penso di far bene il mese dopo Col tempo si vedrà Io ti caccio questo pezzo di qualità, uno dei più belli A parte che devo cambiare il positionio, porco dio Vabbè la naga 33 Se aveva l'altra naga In realtà ora, tipo le crypto sono, vanno molto in, cioè le crypto essendo la massa d'option sempre più alta Vanno, sono molto a stretto contatto con gli stock, cioè con la borsa, no? Infatti se la borsa cala, cala le crypto, se le crypto calano, la borsa cala, cioè tutto un po' correlato Gli NFT hanno un po' più un mercato a parte in realtà, in generale Gli NFT hanno più un mercato a parte Ovvio che se crolla le crypto un po' ne risentono anche gli NFT, però hanno un più un mercato loro Per adesso, quantomeno Cioè il mercato overall ne risente, ma vari progetti magari buoni in realtà non ne risentono più di tanto Perché comunque c'è un senso di community e di eccetera che Trovi molto meno Ma porco di si mi beccava che qua Cazzo, questa è doppia, tripla No, è una tripla, mannaggia a Dio, non è doppia Ha senso livellare ora? Che palla Non pensavo di perdere così sto fight Dai Ci sta in realtà perché ho livellato anch'io al 2 Che board aveva lui? Non è bellissimo perché mi sono gold praticamente Potevo vendere due pezzi, tripla, ma no No, l'effetto è sempre quello Però vabbè, c'è, Sirena al 3 vincevi il game, bro Troppo sgrava Porco Dio questo, che board ha E la posso copiare? È buona da copiare Porco Dio, bro, quanti danni sono? 12 danni Madonna, questo è il nazz, bro, ma dai What the fuck is that? Bro, che cazzo è sta roba Questo è triplato? Al 5 Non bene Siamo già a 26 di vita Dipende che pezzo fottoloppo Perché l'ho poi triplato al 5 Quindi mi sembra qualcosa di buono al 5 lui Sbura questa, cazzo Qua la devo fare al 6 Però io Penso Se riesco a livello HP vendo Un sale element Dopo triplo al 6 Anche questo è triplato Cazzo Madonna mia sta roba Cioè a questo punto non so se prelevare il pezzo di hop Perché Oppure non triplo questo Il bait potrebbe essere triplare questo qua Secondo me è bait triplare questo Ma schippo È troppo triplare quello Questa qua la voglio prenderci Dai è forte qua Secondo me è triplare questo e bait Perché non riesco a fare tutto bro Potrei frizzare sta roba Perché se lui ha triplato al 6 E trovo mega buster Sai che anch'io devo prenderlo forse E questo è forte sul buster Oppure me ne sbatteva dal 6 dopo Tanto costa 8 Posso Livellare Eh tocca vedere cosa è lui Però ecco perché Tanto riesco sia a triplare Sia a fottere un pezzo Dalla bordo di hop Dopo Se voglio Oh non è facile Solo che qua prendo il cazzo T7 Non sono debolissimo Non sono neanche buono Però Buono il polpa e il nazz Ottimo Buono 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 sta roba Solo che non devo perdere qua bro Se mi prendo il 9 qua E' terribile Ok Quale sia una buona hit Madonna mia Ok non perdo Questo è bait Non lo prendo Che merda sta roba Porco dio Io però Non penso di prenderlo Perché c'è troppo forte Il polpo qua Oltretutto Tutta sta roba è forte Forse era quasi Far al 5 La tripla Questo sarebbe coppia dopo Forse lei ce l'ha Oltretutto Quindi poi sarebbe Tripla Ma vendessi 3 Per comprare lui Qua Con lì Così non sto a frizzare Mi indebolisco un po' Forse però Oh fan culo bro Lo faccio Lo faccio bro Non bellissima sta roba Però Spero di non prenderne Più di 11 No sto sopra E allora Voglio I copi Altro 4 6 Sto anche sopra Va benissimo Ottimo Direi Però Non c'ho La tissa E non c'ho La tripla Che speravo di prendere Qua Terrible action Porto Rogue Porto Quest hunter Porto Druid Siamo All qualifier Spero che non salti il cap Giusto di avere il tempo Di fottere un po' la roba La gente Beccassi qualcuno A Kanagi Cazzo Questo è elementale Allora Là c'è la coppia Di quello che la voglio Questa è tripla La voglio Strova tissa Faccio un buon game Cazzo Dai cazzo Raga Buono Devo triplare però Questo Trovare sirene 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 è fondamentale Triplare questo Trovare sirene Boh Non si è messi male Solo ancora ci becchia Lui che è elementale Che è un po' una palla Perché A parte che c'ha il Nats Secondo me È un po' una palla Perché non c'è Da HP Non prendere nulla Di buono Beccavo qualcuno Che aveva Nage In varia Nage Cazzo Bro Tutti Nage Tranne questo Porco Dio C'è Can't believe that Bro I really can't Fifthone Cazzo Qua non perdere Sarebbe fondamentale Bro Buone state Per ora Buona Madonna Questa Triplato Cazzo Con due Gini Madonna Questa Puttana Dio Però non perdo Madonna Questa Si scala Bro Oh mio Dio Ma è little All'1% È proprio così Bro È little All'1% Just I can't Flex Eh Eh vabbè Ci può anche stare In certi casi In certi casi Ci può anche stare Ci può anche stare Ci può anche stare In certi casi Eh ci può anche stare Bro Ci può anche stare Grazie Sociante Io non livellerei Ora Questo Coppia Eh bro Bro È anche giusto Così Sotto un certo Punto di vista Perché comunque L'impegno C'è stato Per farlo Fornisce Scudo di vino Fornisce Scudo Obez Però Non si è messi Così bene Cioè non si è male Ma non si è neanche Straforte Questo perché Perché non abbiamo La tripla Di quello là Abbiamo solo Una tissa Manca sirena Speriamo Questo qua Di copiare È roba buona 5 naghe Dai E' tre in vicino Grazie Grazie Sia Lollo Che A strita Rega Per l'arsab 14 mesi 8 mesi Vediamo Dio cane Dio cane Questo c'è pure Percentuale di Little Enormous Tipo Oddio bro Enorme Madonna 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 Oh grazie mille Strittiante O strittiante Oh no Oh no Ok Sta roba è buona Merde Spenda Am I dead? I guess I guess Questo ne ha tirato i rocker No Mi sa che muoio qua Che palle rega Mi sa che decido qui Se non muoio ora però Cazzo di triple pure la madre qui Ha vinto tutte le belle No viva 5 io sono il capo Eh sono abbastanza il king del game qua Doppio e triple Buono buono Sono il king del game Splash Che culo questo Oddio 12-20 danni average Ne ha presi 8 Che è rotto in culo Dammi il morto a me dai Bravo Sembra giusto E' rotto in culo Questo non mi serve più particolarmente Ma in realtà si ora Forse sta tissa qua è un po' bad Ora frizzo e basta Ma lo voglio fare ora sta roba E' presi da rocker ma rocker era enorme Madonna oh Covid Fortissimo un altro di quelli che da diva Cazzo Se ho fatto il tampone era negativo ieri Forse oggi ne faccio un altro Quelli da fare a caso Il punto è che io non ho allergie Quindi è strano I roccarriani Ah i roccarriani era bello che grosso Questo via Questo via Questo via questo qua gli darei tanto così si può adattare si è vero potevo dare fuori del vento all'altra però cazzo forte fuori del vento qua su elbo però si ci stava e sfiga madonna allora se potete vedere No, 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 no Bro, che scaro, no Ora mi becco il morto, nel chill No, no La triplia di scudo è quasi meglio farla il turno dopo Perché così ho più scudi da dare il turno dopo Che secondo me è meglio Allora Certo che vendi, Bro, se giochi gli scudi Prima ne giochi uno e poi lo tripli Perché ne hai un impi in mano, perché mai non dovresti Sì, facciamo così direi Che merda, stanno Solo che il turno dopo mi servono dei divine Quanto questo? Ah, la demoni, però Servono più divine il turno dopo Ne devo trovare uguale, magari me lo da qua Lo sbocco, Bro Qua vincerò cara su Barov Secondo me, right Oh, non lo so in realtà C'è il round C'è il round C'è il round Si opera C'è il round 11 di pare minchia enorme anche lui che sfiga sta la prima hit oddio man anche opponent enorme noi siamo più grossi ma anche lui è grosso still not enough buono dai giochiamo il quali ora buono dai secondo e primo test paghi alle bet good buono buono